Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Leggiamo insieme in secondo re capitolo 4 verso 22. Una donna con urgenza manda chiedere un asino a suo marito. Leggiamo insieme questo verso. Poi chiamò suo marito e gli disse, ti prego, mandami un servo e un'asina, perché voglio correre dall'uomo di Dio e tornare. Che donna piena di forza, che donna valorosa. Da Sunem al Monte Carmelo c'erano 30 chilometri. 30 chilometri, con un asino che a passo duomo, su per giù, ci vogliono camminando 6, 7, 8 ore. Questa donna di urgenza manda dal suo marito l'ambasciata nel dire, senti, era nel campi, senti, fammi la cortesia, mandami, perché devo andare un attimo. Siamo sette ore andata, sette ore al ritorno, mandami perché devo arrivare un attimo. Pensa tu. La fede, senza le opere, è morta. Se questa si metteva lì a guardare il suo figlio e pensava soltanto al profeta, il figlio era seppellito. Hai capito perché le opere sono importanti? Mi spiego bene. Questa donna si trovò da sola nel bel mezzo di un grande incidente. Mentre teneva il suo figlio sulle ginocchia, sacco, e morì. Signore, aiutaci. Leggiamo per comprendere un po' meglio quel che contengono almeno tre versi, dal 20 al 23. Così assorbi anche tu. Il servo lo portò via, lo condusse da sua madre, il figlio, che era malato. Il bambino rimase sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno, poi morì. A mezzogiorno lei decise di andare al Monte Carmelo. Allora la donna salì, lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio, chiuse la porta e uscì. Poi chiamò suo marito e gli disse, ti prego, mandami un servo e un'assina, perché voglio correre dall'uomo di Dio e tornare. Il marito le chiese, perché vuoi andare da lui quest'oggi? Non è una festa, non è un novilunio e non è sabato. Lei rispose, lascia fare a me. Ora l'audacia di questa donna, guardiamola insieme, cerchiamo di analizzare quel poco che possiamo. Toglimi quel verso per piacere. Grazie. A mezzogiorno morì il figlio, lo prese, lo mise sul letto del profeta, andò a chiamare suo marito, poi arrivava là, forse un paio di ore ci volevano per fare tutto questo. E siamo da mezzogiorno alle due. Alle due fa notte verso le sette, le otto. Questa donna aveva sette, otto ore di viaggio da fare a piedi, senza paura di niente. Signore aiutaci, che coraggio. Devo andare al Monte Carmelo, 30 chilometri, a piedi. Sono le due del pomeriggio, arriva alle nove la sera, vado e torno, non si interessa di niente. Signore aiutaci questa mattina, ti rendi conto di che cosa parliamo? Un poco come si trovarono i discepoli. In Marco capitolo 4, verso 37, sono incidenti di percorso, che ci aiutano a comprendere quando noi ci troviamo in situazioni difficili. Noi credenti dobbiamo reagire nel modo giusto, prendere la direzione giusta, trovare la via giusta. La via è una, sempre una, sempre la stessa. Dio, il Signore. Gesù dice, io sono la via. Leggiamo in Marco 4, verso 37. Abbiamo delle indicazioni nella parola di Dio, che ci propongono le soluzioni quando noi le mettiamo ad effetto nella nostra vita. Leggiamo. Marco 4, verso 37, dice. Ed ecco, levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che la barca già, già si riempiva. La barca già si riempiva e Gesù dormiva. Verso 38. Gesù, il figlio di Dio, stava dormendo sul guanciale a poppo. Essi lo svegliarono e gli dissero, maestro, non ti importa che noi moriamo? Ci sono cose che succedono nel nostro cammino e noi abbiamo bisogno di trovare la via di uscita. Come quando ci troviamo in un contesto dove c'è il fuoco che brucia, in un centro commerciale, in una casa, in una stanza, dove ci troviamo? Se restiamo lì, fermi, ci restiamo dentro. Non ci dobbiamo piangere addosso, sorella mia. Non dobbiamo piangerci addosso. Dobbiamo cercare di fare il meglio che possiamo per trovare la via, ma che sia la via giusta. Signore, aiutaci questa mattina. La via è sempre una. Noi dobbiamo puntare un poco come fa la bussola. La bussola, come la giri, giri, punta sempre verso il nord. Poi tu ti devi orientare dove vuoi andare. La nostra fede deve mirare sempre a Dio, a Cristo, al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Diversamente sono porte chiuse. Lo devi sapere perché quando cominci a prendere altre strade ti incastri dove non ne viene più fuori. Entri in un tunnel che non ne esci più. cominci a sbandarti, cominci a perderti d'animo, cominci a stancarti, cominci ad essere delusa, cominci a sentire persone o amici che ti trattengono di chiacchiere e non combini niente e ci resti dentro. Forse qui, andiamo qua, andiamo là, Signore, aiutati. Ho già detto qualche volta, nel 1935, mio padre, quando conobbe l'Evangelo, aveva un grande problema in casa. Avevano il secondo figlio, dopo di mio padre, che aveva 12 anni era posseduto da spiriti immonti. Non sapevano cosa fare. Tutto un tratto si impazziva. Si doveva buttare nel fuoco, si doveva buttare nella vasca dell'acqua che serviva per irrigare, si doveva buttare nel fiume. non sapevano come fare. Mio nonno, poverino, era disperato. Doveva lasciare i lavori, il grano da mietere e così via, e non sapeva dove andare. Andiamo alla Madonna, di. Andiamo a Sant'Antonio, di. E forse sarà Sant'Antonio, e forse sarà il prete, e forse sarà questo. Dovunque andava, gli chiedevano solo soldi. Tanto che arrivò al punto di vendersi la fede per pagare un'ultima messa e non aveva niente più. Hai capito che sto dicendo? Era una disperazione. Una mia bisnonna aveva un confinante, un credente, che era venuto dagli Stati Uniti, era andato per fare fortuna, aveva incontrato il Signore, e così la fortuna sua di fare soldi la lasciò. La fortuna sua era di avere incontrato Cristo. quando ritornò nel paese, ritornò per predicare il Vangelo, lo prendevano come un pazzo. Lui portava il Vangelo mentre andava in campagna, era piccolino, ci aveva fatto i foderi di rame, perché mentre lavorava il campo, ogni tanto si fermava, leggeva il Vangelo, e pregava e continuava. Aveva un terreno proprio a fianco alla casa della mia bisnonna. Questo uomo gli parlava sempre del Signore e gli leggeva il Vangelo. La mia bisnonna disse a mio nonno, guarda, io so che c'è Francesco a fianco al nostro terreno, che dice che c'ha un libro, che forse può fare qualcosa. Mio nonno, disperato, che non sapeva più dove andare, si spostò e andò verso questo zio Francesco, lo chiamava. Andò e gli disse zio Francesco, buongiorno. Si salutarono e mio nonno gli disse io ho un grande problema a casa. ho un mio figlio che è posseduto da spiriti immondi, non c'è più pace. Non so dove mettere la testa, non posso più lavorare la mattina, la sera, la notte. Quando, quando gli prende sta forza, io non riesco più a sapere come devo fare. sono andato a San D'Antonio, sono andato a Ave Maria, sono andato dal prete Tizio, sono andato là, sono andato, ho girato mezzo mondo, non so dove devo andare più. Questo anziano gli disse vieni qua, solo Gesù lo può salvare, vieni qua, preghiamo. Credi tu che poi, mio nonno dice, sì, credo, ma diceva sì dietro per dire e così cominciò a pregare proprio lì dove stava mettendo il grano. A un tratto disse a mio nonno e mentre a casa non potevano trattenere mio zio perché voleva fare pazzie, lo mantenevano. Disse andiamo a casa e così andò a casa e il Signore attraverso la preghiera lo liberò completamente. È morto a 93-94 anni, qualche volta gli ho chiesto ma come ti veniva questa cosa? Mi diceva mi veniva nella testa come una forza che mi diceva buttati nel fuoco, buttati nell'acqua, negati, ucciditi, sali sull'albero, buttati giù. Era una forza che mi faceva spostare verso quella direzione, una forza nella mente come quando noi diamo forza a un braccio con la mente perché diciamo alzati, no? Questa forza lo spostava così. il Signore lo liberò completamente. Si convertì tutta la famiglia e nella zona era infestata di spiriti immondi il Signore fece un grande risveglio nel 1935 in quella zona. Voglio dirti non andare a destra e a sinistra perché perdi tempo. Guardiamo cosa ci dice la scrittura questa mattina, come queste persone si impegnano verso la giusta direzione. Ci sono cose che succedono nel nostro cammino e noi abbiamo bisogno di trovare la via di uscita come quando ci troviamo in un luogo che brucia. Dobbiamo cercare la via di uscita, dobbiamo avere un punto di riferimento sicuro. Nel verso 20 dice lei aveva un punto di riferimento sicuro. Il servo lo portò via e lo recò da sua madre. Il fangiullo rimase sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno. poi morì. Signore aiutaci. Si pensa che fosse stato un colpo di sole o altro. Il figlio unico figlio di un miracolo morì. So la cosa faccio. Pensa per un atto. vado da mio marito e cosa mi può fare? Vado nel vicinato e cosa mi fanno? Dove devo andare? Che cosa devo fare? Gli balena per la mente qualcosa di molto importante. Il Signore aveva operato perché gli aveva fatto avere quel figlio cominciò a pensare il Signore che me l'ha dato il Signore lo può risuscitare. A Dio sia la gloria. Si pensa a un colpo di sole o altro il figlio unico figlio di un miracolo morì. So la cosa faccio. Quale via prendo? Io so questo dentro di sé questo figlio è un dono un miracolo un miracolo che Dio ha fatto nella mia vita leggiamo il verso 21 farò così decisa determinata allora la donna salì lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio chiuse la porta e uscì l'ha chiusa a chiave perché doveva partire Signore aiutaci pensa per un attimo avere un figlio morto lo prendi lo chiudi in casa e te ne vai con il desiderio che qualcosa deve accadere che non te ne vai come quella che ha lasciato la mamma e se ne è andata in vacanze per sei giorni o come quella che ha lasciato la figlia e adesso è in prigione per sei giorni per andare con l'amante no lei partì perché doveva succedere qualche cosa di come era successo nella sua vita perché lei era sterile e l'uomo di Dio gli aveva detto l'anno prossimo tu avrai un figlio e lei era restato scolpito nella sua mente che l'idio di questo profeta l'idio di Eliseo gli aveva dato il figlio e il Dio di Eliseo doveva rispondere a quel problema gloria al Signore questo ci parla ha operato il Signore nella tua vita la domanda che ti pongo ha operato credente il Signore nella tua vita ha operato nella tua casa ha operato nella tua famiglia hai visto dei miracoli che Dio ha fatto oggi il Signore ti parla ti vuole far sapere che tu devi esercitare la fede la fede senza le opere è morta questa donna ci dà un insegnamento di come esercitare la fede a tutti i costi di voler raggiungere quello che il Signore può fare vuole fare ma ha bisogno che noi ci muoviamo in fede questo ci parla sei un credente in questa scena ci siamo io e te ho detto prima io non sono il maestro io sono come te siamo alla scuola di come dobbiamo esercitare la fede in ogni situazione qual è la situazione che tu ti trovi non quella di ieri non quella di domani quella che stai vivendo adesso comincia ad esercitare la fede comincia tanto per cominciare a rivolgerti al Signore mentre stiamo parlando nel dire Signore ti presento quello che il mio caso in questo momento alleluia io e te questa donna è senza nome mettiamo il nostro nome nella Bibbia quando non ci sono i nomi è un libro aperto dove ognuno di noi si trova in una circostanza quasi uguale e che possiamo metterci il nostro nome per dire Signore io vengo a te io mi rivolgo a te io cerco di fare il massimo di creare una traiettoria tramite oggi non c'è Eliseo oggi c'è il Signore che è presente dove sei tu dove sono io gloria al Signore il nostro il nostro quando quando ci raggiunge la parola ci parla la parola di Dio ha un potere in sé che mentre noi la stiamo amministrando ci parla nel farci comprendere fai così fai così fai così leggiamo il verso 22 l'abbiamo già letto prima e chiamato il suo marito cominciò a mettersi all'opera disse ti prego mandami uno dei tuoi servi e un'asina perché voglio correre dall'uomo di Dio e tornare come se fosse stato sotto casa cerca come può fare per raggiungere prima possibile il punto che lei sa che funziona c'erano tante altre cose che poteva fare no un punto di riferimento forte e chi c'è più del Signore un punto di riferimento che risponde e chi c'è più del Signore un punto di riferimento che tu già hai constatato che funziona e chi c'è più di Lui Gesù 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 qui Gesù lì dovunque Gesù è sempre pronto alleluia gloria sia resa al Signore funziona in Marco 2.4 c'è un altro esempio che ci aiuta questi esempi ci parlano sono casi che succedono ma che ci aiutano a sapere che noi dobbiamo esercitare la fede non c'è niente da fare leggiamo insieme questo verso gloria sia resa a te Signore alleluia non potendo farlo giungere fino a Lui fino a Gesù a causa della folla scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e fattavi un'apertura calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralittico dalla parte dove era Gesù fin qui abbiamo visto gente che non si piange addosso il nemico ci imballa ci offusca la mente ci confonde ci scoraggia chi ti è vicino non vede quello che vedi tu il Signore molte volte vuole che tu agisci in prima persona perché quando ti disperdi intorno alle persone che ti circondano anziché incoraggiarti ti scoraggiano devi esercitare la tua fede personale pensa per un attimo quando Dio gli disse ad Abramo di offrire il suo figlio Isacco tante volte ho pensato secondo me lui prese il suo figlio prese la legna prese il fuoco prese i servi che camminavano insieme con lui ma non disse niente a Sara perché se lo avesse detto a Sara Sara lo avrebbe gli avrebbe impedito di portare il figlio ma stai scherzando ma sono 25 anni che aspettiamo adesso che arriviamo ma tu hai preso un abbaglio Abramo ma tu non sei normale chiamava tutti i servi per dire ma legatelo per piacere è impazzito mio marito dovete decidere da solo devi decidere da sola sei una credente sei un credente ti devi lasciare guidare dallo Spirito Santo che ti vuole guidare nella giusta direzione e tu devi esercitare la fede devi fare il meglio che puoi per raggiungere quello che il Signore ti fa comprendere che devi fare in secondo re capitolo 4 verso 23 dice così quando sei grande Signore il marito le chiese perché vuoi andare da lui quest'oggi non è il novilunio e non è sabato e la rispose lascia fare a me lei si aspettava il miracolo il marito poteva distoglierla poteva dirgli come fare il funerale quale pastore dovevano chiamare per svolgere il funerale ma era imballato lei sapeva che il marito si sarebbe opposto a fare tutto questo ma dove vai alle due del pomeriggio arrivi là che già è notte ma poi chi ti dice che lui sarà sul monte Carmelo dove dici tu e sei andato a un altro posto tu come fai a saperlo non aveva il cellulare non aveva il numero di cellulare quante impossibilità c'erano a lei come fare il funerale lei voleva lei lo voleva vivo lei lo voleva vivo lei non lo aveva lasciato sul letto perché doveva andarsene per non vederlo e per pensare mio marito poi quanto viene fare a lui il funerale io non voglio vederlo non me lo voglio ricordare vivo no lei lo voleva vivo a tutti i costi il miracolo gli parlava ciò che era accaduto nella sua vita gli parlava gli promuoveva la fede verso il Dio di Eliseo lei era sterile sapeva Dio aveva operato Dio è grande non doveva andare a una funzione religiosa come diceva il marito il marito dice ma che occasione c'è che tu devi andare c'è un novilunio c'è una festa solenne c'è la festa delle capanne perché vuoi andare come dice nel salmo 81 verso 3 che c'erano delle feste che si praticava di andare e il marito pensava se c'era la festa va bene ma se non c'è la festa perché andare leggiamo questo salmo salmo 81 3 dice suonate la tromba alla nuova luna alla luna piena al giorno della nostra festa ah signore non era la festa dei tabernacoli non è per una nuova visione come fu per i discepoli sul monte della trasfigurazione perché andarono con Gesù e almeno fecero un'esperienza nuova la possiamo anche leggere in Matteo 17 da 1 a 4 dove andarono insieme con Gesù e fecero un'esperienza gloriosa dove videro Cristo trasformato con una luce che veniva fuori da lui sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte in disparte non era il monte Carmelo era un altro monte ma lei si dirigeva verso il monte Carmelo leggiamo fino al verso 4 e lei doveva andare a un monte ma non era una festa religiosa e fu trasformato davanti a loro la sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero cantidi come la luce e apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui e Pietro prese a dire a Gesù Signore bene che stiamo qui se vuoi farò qui tre tende una per te una per Mosè una per Elia lei anche andava sul monte si spostava verso il monte Carmelo ma non era per una visione non era per una festa non era per un incontro solenne era per andare dove conosceva un uomo di Dio che Dio si serviva di lui e lei era diventata credente nel Dio di quell'uomo e si sposta nel verso 23 leggiamo secondo re 2 23 4 23 dice così il marito le chiese perché vuoi andare da lui quest'oggi non è un novilunio non è un sabato e la rispose lascia fare a me come dire lasciami fare guardiamo nel verso 24 come esercita la fede alleluia gloria al signor poi fece sellare l'asina e disse al suo servo guidala e tira dritto non mi fermare per strada a meno che io non te lo dica ci mostra un'illustrazione e l'importanza di una fede persistente costante non perdeva il filo sapeva che c'erano 30 chilometri perché aveva conoscenza della zona da Sumem al Monte Carmelo un asino non è una macchina ci volevano almeno sette ore e poi se non c'è lei voleva andare dall'uomo di Dio perché lei aveva ricevuto grazia da Dio dal Dio dell'uomo di Dio alleluia gloria al signor abbiamo letto in un altro esempio la Bibbia è piena di esempi abbiamo letto in Marco 2 4 che dice non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e fattavi un'apertura calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico ecco questi esempi di fede ci aiutano volevano portarlo a Gesù cade un sasso c'è il padrone di casa chi ci vede cosa può dire sul terrazzo c'erano delle piccole bottole che lasciavano normalmente era troppo piccola per poter far scendere il malato ma loro cominciarono a rosicchiare vicino quelle bottole una di quelle bottole per aprirla con attenzione perché potevano uccidere Gesù se cadeva un sasso con tutto l'impegno la fede senza le opere è morta ricordati ricordati cosa vuol dire se loro non si muovevano così il malato non poteva scendere ma la fede li faceva muovere la fede senza le opere è morta sul terrazzo c'erano delle piccole bottole tra l'uno e l'altro hanno detto allarghiamo questa bottola la fede senza le opere è morta l'asino il servo andare sono opere la donna ci ha mostrato come si esercita la fede questi uomini ci stanno mostrando come si esercita la fede la fede senza le opere è morta leggiamo il verso 5 quando noi ci mettiamo con tutta la perseveranza e andiamo nella giusta direzione dove andavano? nella giusta direzione verso Gesù veduta la loro fede disse al paralitico figlio i tuoi peccati sono perdonati San Camasciano la condizione fisica di quest'uomo malato Gesù dimostra che era causa della sua vita piena di peccato aveva vissuto una vita peccaminosa tanto che lo avevano ridotto ad essere paralizzato il peccato paralizza l'uomo ci paralizza di camminare fisicamente e ci paralizza di camminare spiritualmente nelle vie del Signore può essere anche questo il tuo caso questa mattina però c'è speranza per te perché Gesù non condanna perdona se così è per te Gesù non ti condanna ti perdona e ti guarisce per la fede accostati a lui avvicinati a lui dirigi il tuo desiderio verso di lui nel dire Signore perdonami guariscimi liberami ti voglio lodare ti voglio servire voglio testimoniare di te voglio alzare la voce per dire che tu sei il mio personale salvatore sei il mio personale guaritore sei il mio Dio sei il mio salvatore salvatore vuol dire che ci salva in qualsiasi e da qualsiasi situazione alleluia ti perdona ti guarisce per la fede fai i passi di fede verso Gesù l'esempio della donna ci può essere di aiuto leggiamo il verso 24 dice poi fece sellare l'asino e disse al suo servo guidala tira dritto non ti fermare per strada a meno che io non te lo dica dopo 30 chilometri a casa il figlio era morto davanti scorse Eliseo ed Eliseo vide lei che bella figura quando noi ci impegniamo era troppo lontano prima esercitando la fede era arrivata vicino molte volte noi siamo lontani dal Signore ma quanto perseveriamo ci avviciniamo a Lui leggiamo il verso 25 questa mattina non è Eliseo che ti vede è il Signore Gesù che ti vede così partì e giunse dall'uomo di Dio sul Monte Carmelo appena l'uomo di Dio la vide da lontano disse a Gheazzi suo servo ecco la tsunami che viene oh Signore grazie sul Monte Carmelo Gesù ti vede egli ti viene in aiuto non temere Dio ti viene in aiuto questa donna era andata sì perché era il punto di riferimento di quel tempo per lei ma la sua fede era in Dio nel verso 30 non testimonia di Eliseo testimonia del Dio vivente leggiamolo insieme la madre del bambino disse a Eliseo come è vero che il Signore vive e che tu vivi uno lo vedeva l'altro non lo vedeva a Eliseo lo vedeva ma sapeva che il Signore era vivente e che il Signore vive io non ti lascerò ed Eliseo si alzò e andò insieme con lei gloria al Signore proprio di lei confessò che Dio il Dio vivente era il suo Dio una vera conversione come quella di Ruth questa prima era una pagana diventò una credente potente nel Signore esercitando la fede anche Ruth era una pagana nel capitolo 1 verso 16 e 17 di Ruth troviamo una stessa decisione che prese una decisione di volersi dare a Dio con tutto il cuore con tutta l'anima con tutta se stessa e di là cominciò un nuovo cammino ma Ruth rispose non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te perché dove andrai tu andrò anch'io e dove sarai tu io pure starò il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio verso 17 per cortesia Signore che sei grande dove morirai tu morirò anch'io e Lassaro sepolta il Signore mi tratti con il massimo rigore se altra cosa che la morte mi separerà da te cancellò dalla sua vita tutti gli idoli di Moab il Carmelo oggi parla a noi sai che storia c'è sul Monte Carmelo? c'è la storia di un popolo il popolo il popolo di Dio che si era corrotto nell'idolatria è vero che era colpa di Izebel Izebel si trova anche nella vocalisse Izebel la prostituta c'è anche in Italia una chiesa idolatra Signore aiutaci Signore aiutaci questa mattina in primo re 18 19 questa donna sosteneva 850 profeti degli idoli che lei aveva portato adesso fa radunare tutto Israele presso di me sul Monte Carmelo insieme ai 450 profeti di Baal e i 400 profeti di Astarte che mangiano alla mensa di Izebel noi abbiamo una chiesa corrotta sotto tutti i punti di vista ma la corruzione peggiore è quella dell'idolatria esattamente come era successo nel popolo di Israele Signore aiutaci noi gli abbiamo cambiato faccia gli abbiamo dato nomi di persone ma sempre idoli sono ci dobbiamo allontanare dove Izebel aveva 850 profeti idolati sotto la sua protezione come la nostra nazione piena di idoli e Dio parla alla chiesa oggi parla a me singolarmente parla a te singolarmente ma parla alla nostra nazione la chiesa che vive nell'idolatria più assoluta Dio ce ne liberi e la voce di Dio della sua parola che dice quello che in quel giorno Elia diceva al popolo Dio lo dice a noi attraverso la sua parola leggiamo il verso 21 ognuno di noi guardi ben addentro dentro di sé se ci sono idoli domestici se ci sono idoli nel cuore possono essere anche idoli invisibili noi dobbiamo estirparli dobbiamo allontanarcene allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e gli disse e disse fino a quando zoppi chiedete da due latri il Signore dice a ciascuno di noi fino a quando zoppichi un po' dentro un po' fuori che cammini zoppicando nelle vie del Signore se il Signore è Dio se Gesù Cristo è il Figlio di Dio se Gesù Cristo è l'unico Salvatore se Gesù Cristo è l'unico Mediatore affidati a Lui e seguilo se invece sono gli idoli che tieni seguili pure ma sappi che non andrai a buon fine è la via sbagliata il popolo non gli rispose nulla ma più avanti prese una bella decisione di cambiare noi abbiamo bisogno di cambiare in questo tempo perché molti idoli occupano il nostro cuore Dio parla alla Chiesa non parla solo alla Chiesa romana che è piena di idoli visibili ma anche alla Chiesa evangelica o di qualsiasi denominazione perché molti idoli sono nascosti nel nostro cuore scegliamo scegliamo oggi a chi vogliamo servire a Dio l'anziano l'anziano Giosuè in una stessa circostanza come questa scelse e disse quanto a me e alla casa mia serviremo all'eterno e il popolo rispose anche noi facciamo così vogliamo prendere questo indirizzo del grande conduttore del popolo di Israele Giosuè che vuol dire anche Gesù vuol dire il nome è lo stesso di Gesù Isshua il nostro capitano il nostro tutto è Gesù perché lui sta per ritornare a Dio c'è la gloria ci invita a seguire Cristo che da un momento all'altro torna i tempi sono maturi i segni ci parlano prepariamoci Cristo Cristo sta per ritornare Cristo non è l'ultima ruota del carro Cristo è Dio Cristo è il nostro salvatore Cristo è il nostro redentore Cristo è la nostra guida mentre aspettiamo prepariamoci come dice la sua parola in Tito capitolo 2 verso 13 dice così leggiamolo insieme mentre aspettiamo la beata speranza è l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo uno è colui che noi dobbiamo guardare oggi non c'è Eliseo oggi non c'è Elia oggi non ci sono quelli del tempo passato oggi c'è in questa nuova era Cristo nostro Dio e salvatore unico mediatore unico salvatore unico in tutto mettiamolo al primo posto e puntiamo con la nostra fede verso di Lui per ogni cosa perché Lui è fedele Lui risponde quando andiamo a Lui il resto è solo una delusione non avrai mai la risposta ti stanchi e non vedrai mai qualcosa che cambia nella tua vita egli ti invita oggi di rivolgerti a Lui e allora vedrai come cambiano le cose se no ti stanchi ogni giorno di più ogni giorno diventa peggio del giorno precedente egli ti sta invitando avvicinati a Lui egli non ti delude Cristo non ti elude forse ti sei stancato ti sei stancata di girare e sei un'anima delusa sì proprio oggi c'è speranza al Calvario per te andiamo a Lui insieme Signore veniamo a Te perché Tu sei l'unico punto di riferimento che risponde che rispondi a colui che personalmente si dirige verso di Te Signore grazie per gli esempi di fede di quelli che hanno mirato puntato guardato verso di Te ed hanno ricevuto grazia Signore ti prego per colei per colui che in questo giorno sta guardando a Te opera nella sua vita mentre si appressa a Te mentre espone il suo bisogno mentre espone il suo peccato Signore perdona e guarisci opera perché Tu sei lo stesso ieri oggi e in eterno tu operi sempre allo stesso modo e anche oggi tu stai operando nel cuore di Lei di Lui dico Lei dico Lui che sta guardando a Te in questo momento che la Tua benedizione si posi su ognuno che sta guardando a Te unico punto di riferimento voluto da Dio per la nostra salvezza per la nostra guarigione per la nostra liberazione per la nostra totale liberazione grazie Signore per la Tua parola grazie che Tu sei presente perché Tu sei presente in mezzo a noi e noi Ti ringraziamo Ti odiamo e Ti vogliamo servire ora e sempre amén 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 hai ascoltato un messaggio registrato in diretta continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org